Ciao, sono Andrea Masala, 31 anni e ero nato in Cagliari, Sardinia, Italia. Sono interessato nel vostro lavoro, quindi spiego, posso portare un bambino e il mare è la mia vita. Mi piace guardare, fotografare, rispetto. Sono un'esperta surveyora e l'insurazione. Mi piace guardare tecniche, l'insurazione è portata per il team e l'individuo. Mi piace stare con le persone e il mare. Quindi, sono pronti, possiamo iniziare. Potremmo. No. No.